E lo so, ma scusa, abbi pazienza, è da mezz'ora che stiamo a tavola, sei sempre la solita cafona, devi scendere subito, è che non possiamo più aspettarti. Come? Non trovi la porta, come non trovi la porta? E come non c'è la porta, io per dove uscivo, scusa. Ma sì, sì, piano piano, con la mano la trovi la porta. Vabbè, quando la trovi viene, che ci posso fare, scusa. E beh? Scusate, è mia moglie che non trova la porta, ma c'è la porta, io come uscivo allora. Non è possibile, chiedo scusa. Sì, immagini. Prego, prendere. Sì, bella. Non me, l'aperitivo. Ok. Ma non toccare. Perché? Penoliva. Era meglio se mangiava in un tavolo a passi. Ecco, grazie. Facciamo un brindisi? Sì, com'è? Ma così, subito. E chi aspettiamo? Cin cin, 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 cin cin. Ma che cos'è? È l'aperitivo, ragione. Ma io già c'ho fame. Eh, meno male che c'è il commentatore che conosce i piatti locali. Sono lì, dì, dì, dì. Oh, mi scusi. Eh, qua si mangia bene. Avete fatto bene a fidarvi di me, perché è una cucina molto particolare. Eh, speriamo che sia pure abbondante. Anche se le porzioni qua sono un po' abbondanti. Si può mangiare tutto perché non si ingrassa. Ah, davvero? E' un po' abbondante. Ma come? Insebiano lì. Ma come? Ehi, scuola, scuola. C'ho sassolino, insebiano. Ma Augusto. Ah, grazie. Ragioniere. Eh, grazie. Augusto, dammi il piccino. Che? Ma che? Alla bicchiera, signora. Alla saluta. Alla bicchiera. Quanta roba. Si mangia poco perché roba sintesi. Eh, sì. Cacarelli. Cianci. Sì, sì, appoggiamo. Comendatore, ma questa che roba è? E che ne so io. Come che ne sa? Lei era così informato sui cibi locali. Sì, è roba greca. Roba che mangiavano gli antichi greci. Sì, ma che? Carciofolo. È sicuro? Eh. Scusi, commentatore, è stato lei che ci ha portato qui in Grecia? È buonissimo. Che profumo. Secondo me anche i carciofi devono essere buoni. Ma che dici? O sai che a me i carciofi non mi piacciono? A me i carciofi non mi piacciono. È buono. Do you mind keeping your dinner to yourself? È buono. So carciofi volanti. It's like you've done me a favor. It's okay, it's okay, it's okay. It's mine. Vado in cucina a prendere un po' di bicarbonato. Mi scusi come l'ha detto. Mi scusi signorina. Ma tu riesci soltanto a combinare dei guai. What kind of waiter are you, anyway? What kind of waiter are you, anyway?